Complice il caldo e la giornata infrasettimanale, nei negozi per le vie del Centro Storico non c'è molta folla. Da un lato c'è chi passeggia dando uno sguardo alle vetrine in attesa degli sconti, dall'altro i negozianti che sperano di incrementare le entrate per fronteggiare il periodo di crisi. Domani parteciperà alla Notte dei Salvi qua in Centro Storico? Penso di sì. Quindi se ne approfitta? E' un divertimento. Ma farà anche acquisti? Oddio, adesso non lo so, vediamo. I saldi nelle Marche quest'anno sono stati anticipati di un giorno e quindi prenderanno il via venerdì 3 luglio in concomitanza con la Notte Rosa. La Notte dei Salvi invece, evento organizzato dal Comitato Apriamo il Centro, torna sabato 4. Una scelta di programmare le iniziative in un unico fine settimana che non soddisfa pienamente tutti. La maggior parte degli eventi sono in lungomare, quindi logicamente in Centro Storico non so quanta gente ci sarà. Noi ci metteremo tutto l'impegno come abbiamo sempre fatto e ci abbiamo sempre messo, quindi ci tingeremo comunque di rosa e per comunque anche per i turisti, per ricordarsi insomma la città di Fano un po' romana e un po' tinta di rosa. Però sicuramente si potevano sicuramente dividere per avere un maggiore riscontro. Una tirata d'orecchia all'amministrazione fanese arriva inoltre da diversi esercenti che lamentano la distribuzione non equa dei contributi. C'è troppa disparità, dicono, e portano l'esempio dei fondi aumentati di 30.000 euro per Fano Jets e la cifra di 500 euro per la Notte dei Saldi. I risforzi sono stati tanti, il lavoro è stato enorme, siamo riusciti a mettere in piedi secondo noi un bel programma, non ricco come gli altri anni, perché le risorse sono molto di meno, però già siamo riusciti a animare quasi tutto il centro, il centro storico e fare un buon programma. Programma illustrato questa mattina da Filippo Bacchiocchi, a partire dal venerdì con il concerto in piazza dei Rinno Seronti, musica nei vari locali, bancarelle e negozi aperti. Sabato invece, sempre in piazza, andrà in scena un saggio musicale con i Diamond Voice e al termine DJ. Non mancheranno artisti di strada, intrattenimento per adulti e piccini per l'occasione, poi rimarranno aperti sia i musei ad ingresso gratuito, sia il Teatro della Fortuna. Dalle 21 alle ore 23 sarà possibile visitare gli spazi del piano terra del teatro, e cioè i due ampi foyer, ma anche la Sala Poletti. Parteciperete alla Notte dei Saldi, quest'anno si approfitterà di qualche sconto? Penso di no, che c'è crisi, diciamo. Quindi ancora continua a mordere, si fa difficoltà. Sì. Rimane ottimistica invece la previsione del Codacons. Secondo i consumatori, dopo otto anni il bilancio dei saldi estivi potrebbe tornare quest'anno a mostrare il segno più. Aspetterete i saldi oppure cominciate oggi a fare acquisti? No, abbiamo già iniziato. Sì, sì. Quindi anche la signora non aspetterà i saldi? No, no, io aspetto i saldi. Sì, sì. Sto guardando le vetrine. Oggi abbiamo cercato di intervistare gente del posto, ma in realtà abbiamo contratto tanti turisti che non conoscono le due manifestazioni. Dove andrete? A passeggiare in questo corso. Ecco, quindi sarete nel centro storico, ma per fare acquisti o semplicemente per una semplice passeggiata? Passeggiamo perché siamo in vacanza tre giorni, non conosciamo bene il posto. Ecco, quindi turisti, dove siete? Di Verona. Verona? Sì. Quindi rimanete per poco? Tre giorni. Domani parteciperete alla Notte dei Saldi e approfitterete di qualche sconto quest'anno? No, non siamo neanche di Fano. No. No. No, in realtà siamo di Milano. Ah, quindi in vacanza? Sì, sì. Ecco, avete deciso che cosa fare domani? No, ancora no. Mi approfitterete degli sconti? No, non siamo del posto. No, non siamo del posto. No, no. Domani parteciperà alla Notte dei Saldi? Non lo so. Non lo so. Sono appena arrivata. È una turista? Sì. Quest'anno comunque si aspettano gli sconti per fare acquisti? Beh, sì, speriamo di sì.